Buongiorno, ben alzati, ben ritrovati per l'appuntamento quotidiano con la carta stampata. Occhio ai giornali, 7.30 tutte le mattine qui a Fano TV per mostrarvi quello che troverete in edicola sui giornali in edizione locale, naturalmente di Carlino e Corriere Adriatico. Ma come sempre guardiamo il tempo sul quale c'è poco da dire e anche l'almanacco del giorno. Guardiamolo insieme, oggi è giovedì 3 agosto, San Pietro di Anagni, sacerdote, il sole è sorto alle 5.58 e tramonterà alle 20.30. Le giornate come vedete si incominciano ad accorciare ma il caldo, l'affa, l'umidità e il sole coccente non ci danno tregua, sereno, poco nuvoloso, nessuna precipitazione, temperature in lieve aumento come se quelle che abbiamo non bastassero. 20 di regime di brezza e mare quasi calmo anche per venerdì, vedete, è veramente coppie carbone con oggi, nessuna precipitazione, le temperature sono stazionarie in lieve aumento, 20 di regime di brezza e mare calmo anche per sabato, sostanzialmente non cambia, aumenta qualche velatura, poco nuvoloso, nessuna precipitazione e le temperature sono quelle che sono. Allora le vediamo un pochettino così riassunte qui nella tabella, quelle previste per oggi, vedete sempre in capofila Ascoli Piceno che continua a segnare temperature sopra i 40 gradi e anche a Fabriano, non scherzano, 39, 40 a Macerata, il sud delle Marche è veramente infuocato, incandescente, però sono tutte temperature intorno ai 38, oltre i 30 sicuramente, vediamo che anche a Urbino 36 e Pesaro 33 ma poi con, come si dice, l'umidità, il percepito è ancora più alto. Questo è, andiamo nelle pagine del resto del Carlino, apriamo l'inserto, la prima pagina, la pagina di apertura che punta come fotonotizia su quello che vi abbiamo fatto vedere anche ieri nel nostro telegiornale, andiamo a sbidonare, questa è la didascalia di questo articolo, folle divertimento di un gruppo di giovanissimi urbinati che ribaltano contenitori dell'immondizia, nove i denunciati. E poi in testa di pagina un gravissimo fatto di cronaca, aggredito dal pitbull del vicino, rischia di perdere una mano e anche l'avambraccio. E poi di spalla il cantiere diventa un ring tra impresa e comune, è tempo di carte bollate, via San Francesco finalmente libera da questo cantiere, però insomma qualcosa non ha funzionato, affano, arrestati i ladri di biciclette, un'azione lampo che poi vedremo, vedremo naturalmente nell'articolo. E poi c'è sport con VL e San Giovanni che aspetta i lavori, intanto vengono portati via i tesori. Allora, eccola qua l'articolo che riguarda il gravissimo fatto di cronaca, ha salito sul pianerotolo di casa da due pitbull, ora rischia la mano e l'avambraccio, nel quartiere della Celletta, i cani sono del suo dirimpettaio che è stato ferito anche lui, vedete qui di fianco, per quanti non lo conoscessero, il pitbull è questo esemplare, questa razza, i due animali protagonisti dell'aggressione ieri sono una coppia, quindi fanno anche branco. Il pitbull è descritto come un cane tenace, indomito, estremamente coraggioso, impavido e fedele al suo padrone. Dopo di fianco ci sono tutti gli sviluppi della vicenda, vedete qui film dell'orrore, schizzi di sangue e dappertutto, l'uomo ha cercato di salvarsi risalendo verso il suo portone, insomma, ma tutto è stato inutile, i cani lo hanno raggiunto e lo hanno aggredito. Ecco qua, c'è un articolo nel resto del Carlino che parla appunto del tempo, dell'anticiclone sariano che non molla l'osso, Lucifero rilancia addirittura l'Affa, oggi e domani si sfioreranno i 40 gradi, sono le giornate più impegnative, questo l'avevano detto un po' tutti i meteorologi, le previsioni del tempo, oggi e domani saranno temperature veramente impegnativa. Il garante dice a Villa Fastigi, celle infuocate, situazione che non va sottovalutata, siamo al carcere di Villa Fastigi. E qui in testa di pagina, oggi al porto di Pesaro, inaugurazione di qualcosa che noi qui a Fano abbiamo già visto, ovvero sia il manufatto in cemento a protezione del molo adornato con dei murales, questo avviene al porto di Pesaro. Oggi nella pagina di Fano invece del resto del Carlino riporta una nosa vicenda che da tantissimo tempo si trascina, e il sottopassaggio di via Nazario Sauro, siamo nella zona che mette in collegamento la Darsana Borghese con la Sassonia, con il Lido e qui vedete le situazioni che si creano quotidianamente. Questo qui è l'imbuto nel quale devono passare i pedoni che sono schiacciati tra appunto gli autoveicoli e il muro di contenimento. L'assessore interpellato dal resto del Carlino dice sottopasso, sempre peggio, i pedoni sono messi al muro, ma lui dice non cambio, è vero, ci sono i pericoli, ma non ho altre priorità. È un problema per cui al momento, dice Cristian Fanesi, non esiste alcuna soluzione. Si trascina questa cosa già dall'amministrazione a Guzzi, quindi insomma è un problema che però dovrà trovare prima o poi una soluzione. E poi in testa un occhiello, il Lido molesta titolare del ristorante, è finito in manette, un 51enne francese, residente in Svizzera, residente in questi giorni a Fano per vacanza. Questo è, no vi faccio vedere un'altra cosa che è riportata in pagina, eccola qua, ve li faccio vedere. Questi sono i due agenti delle volanti del commissariato di Fano, che hanno con un'azione blitz all'1.30 l'altra notte bloccato due ladri, tre erano in realtà due già conosciuti alle forze dell'ordine e un minorenne, sono stati bloccati in via Buozzi dopo aver rubato una bicicletta elettrica a Pesaro. E insomma la volante li ha intercettati, grazie alle descrizioni della bicicletta. I due agenti non hanno avuto dubbi su che cosa fosse all'interno di questo furgone, l'area furtiva in questo caso, e quindi l'hanno arrestato e bloccato dopo nemmeno mezz'ora che questi due ladri avevano effettuato il furto, avevano rubato una bicicletta. Poi oggi per quanto riguarda la politica si registra una giornata importante, Fano e Pesaro insieme, la giunta è congiunta, si parla di infrastrutture, sinergie di servizi. Oggi l'incontro tra i due sindaci, Ricci e Seri, sullo sfondo la città, insomma appunto li vedete qui durante l'incontro con il ministro Minniti al Teatro della Fortuna. La città metropolitana, questo è il live motiv dell'incontro e poi il consiglio si svolgerà nel pomeriggio, però battaglia sul tiro a volo e il nodo di area vasta, questi sono i temi sul piatto. Poi la cronaca, l'incidente spettacolare di un senegalese che finisce ruote all'area lungo canale Albani. E ancora nelle pagine del resto del Carlino vi porto a Urbino dove appunto c'è l'articolo, si parla di quegli atti vandalici di cui insomma nella pagina di apertura c'era la fotonotizia in grande evidenza. Eccola qua, sgominata la gang degli sbidonatori di cassetti, la polizia ha individuato ben 19 ragazzi tra i 16 e i 20 anni che non avendo null'altro che da fare per come passare il tempo ribaltavano i cassonetti, il loro contenuto. Ecco qua insomma il frutto delle loro razzie. Cambiamo testata, andiamo nel Corriere Adriatico che sceglie un'apertura diversa, Cardinale Miracolato, si parla dell'incidente al Cardinale Menichelli e al suo vicario che escono illesi da questa carambola, questa è l'auto che si è ribaltata. Poi cantiere senza pace, il comune dice che sono stati fatti degli errori, siamo appunto su via San Francesco, a Pesaro e a Fano, ansia per trasarti il Vescovo e al Santa Croce per un dolore alla spalla. Anche qui in piedi pagina è riportato il fatto di cronaca dei due pitbull che hanno azzannato sul pianerotolo di casa un pesarese. Vi dicevo appunto, l'amministrazione comunale ammette che in via San Francesco a Pesaro sono stati fatti degli errori e quindi adesso l'amministrazione comunale dopo aver ammesso i danni affida la Pierizia a un ingegnere, ci cerca una soluzione, termineremo prima di Ferragosto in via 11 Settembre e in via Castel Fidardo. Vedete qui i lavori, i cantieri aperti e i commercianti che hanno più volte protestato per questa situazione. Anche qui è riportato il fatto di cronaca nelle pagine di Pesaro e provincia da Napoli con il furgone, sì perché hanno rubato la bicicletta a Pesaro ma poi si sono spostati verso Fano. Ecco perché gli agenti del commissariato di Fano che vedete qui ritratti nella foto con l'area furtiva si sono messi sulle loro tracce perché stavano venendo verso Fano a compiere altre razzie di bicicletti. Resti convalidati, ieri tarda mattinata per direttissima i due patteggiano, si sono beccati un anno e quattro mesi e 200 euro di multa, inoltre non potranno restare nel territorio provinciale di vieto di dimora appunto per loro. Nella pagina di Urbino del Corriere Adriatico, via libera per gli edifici agricoli, così si distrugge il paesaggio, approvata la variante, CUT protesta, interessi di pochi prevalgono sulle tutele. Ecco qui Maria Francesca Canapini, appunto di CUT, dice nella norma non si fa alcun cenno ai vincoli del piano UNESCO. Ancora nelle pagine del Corriere Adriatico, però vi porto in quelle che riguardano Fano, dove c'è grande evidenza per l'incontro di oggi, un summit tra il sindaco Ricci e Massimo Seri, tra le due giunte il centrodestra, però attacca sulla sicurezza, eccolo qui l'articolo di Massimo Foghetti che parla del vescovo Monsignor Trasarti in ospedale per controlli a una spalla dolorante, batterio nel sangue rilevato dalle anasi e resterà una decina di giorni nel reparto di medicina del Santa Croce. Nella pagina della Val Cesano si parla della Chienge, al motel con 150 rifugiati, accoglienza diffusa ideale per l'euro parlamentare, raduno della provincia. Gli ospiti dicono lavoreremo per poterci sdebitare. Vedete qui il sindaco Baldelli che stringe la mano all'euro deputato. A Senigallia, l'ultima pagina che vi propongo del Corriere Adriatico, ma anche della rassegna stampa di questa mattina riguarda Senigallia, che sapete in questi giorni è ostaggio dei nostalgici degli anni 50 con il Summer Jamboree, scontrino selvaggio però, multe ai furbetti anni 50, blitz della finanza negli stand, delle giustificazioni dicono mi sono dimenticato oppure ho finito la carta, insomma anche qui come a scuola, mille giustificazioni, task force di militari guidate dal comandante Antonio Pezzulla, rassegna blindata dalle forze dell'ordine appunto nella giornata di ieri. Tutto deve avvenire naturalmente nella legalità, divertirsi sì, ma naturalmente nel rispetto delle regole e della legge. Bene, questa era l'ultima pagina che vi proponevo. Grazie per essere stati in mia e in nostra compagnia per questo primo appuntamento con l'informazione della giornata. Occhio ai giornali tornerà domani mattina alle 7.30 e questa sera il telegiornale. Occhio alla notizia alle 20.30. Buona giornata a tutti voi. Grazie a tutti.